Domenica prossima, 17 novembre, la Pinacoteca Nazionale di Sassari, in piazza Santa Caterina, ospiterà con inizio alle 11 un gran galà della lirica con un concerto eseguito dal Coro Filarmonico della Sardegna, nell'ambito dell'iniziativa Sassari, città delle arti figurative della musica. Dopo la presentazione e cura della direttrice della Pinacoteca, Giannina Granara, si esibirà con il coro filarmonico la pianista Xenia Nikitina, sotto le direzioni di Gianni Mastino. La giornata continuerà con un percorso didattico sui contenuti della Pinacoteca e un laboratorio chiamato Diddarte 2020, con una performance di Pier Domenico Magri, a cura di Giannina Granara, che si svolgerà dalle 18 alle 21, sempre nei locali della Pinacoteca, in piazza Santa Caterina 4. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e con il Polo Museale della Sardegna. Per informazioni, chiamare il numero 079 23 15 60 della Pinacoteca nazionale.